va bene adesso faccio restart e selezionate il team selezionate il team ok molto semplice selezionate il team ci dividiamo per le stanze così è molto più facile e selezionate il team ok io sono meno quindi volo sicuramente allora io vado io vado non mi fa selezionare il team però se n'è andato dalla stanza non riesco a entrare il team cops non so perché almeno io ho sei massimo due è proprio fatto così ok ci vediamo sotto sta live esplodo da ridere perché cosa no perché ci siamo divisi io non penso qualcosa per il caso sì io volevo fare il ninja va bene fai io faccio distratto perché non capisco un cazzo io adoro io faccio l'ingegnere va bene io adoro naruto questa serata tu hai calmarti no non ce la faccio sono successe troppe casualità ma ma farti fare le coccole da barro da accalmarti voglio solo le coccole di barro da ok cosa le faccio sempre ma se io sono pronto che stai mangiando un plum cake mettiamo questi tre secondi qual è il vostro personaggio preferito di naruto goku grazie wolf ogni live è caotica sì ma questa è peggio perché sentirete solo la mia sincera opinione wolf grazie infinita ragazzi non ho mai guardato naruto in vita mia tu sei un pasto sono sincero anche io raga raga non dobbiamo farci scoprire non dobbiamo muoverci io sono perso qualcosa mi hanno giftato un sacco di roba e non vi ho ascoltati cosa dobbiamo fare noi dobbiamo fare finta di essere altre persone tipo sì esattamente mpc giusto sì quindi non finisce cnpc rubare corretto ok va bene grazie di capri cento pittini ma scusa ma se noi entriamo questi qua già sanno perfettamente tutto quanto ti ha capito e dovete far finta di essere degli mpc cazzo mi ha chilato emerald emerald capisce che voi non siete degli mpc raga 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 ho paura ho paura dove è emerald che lo ammazzi da sopra ma poi dice break glass ma che cazzarola ma come faccio a fare finta come faccio ma adesso entro che ma dovrebbe essere tipo una specie propante però dobbiamo far finta di essere loro 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 ci vedono se io siamo tutti quanti tipo vestiti uguali come cazzo facciamo a non essere ne ho ucciso uno non ci sono uno ho ucciso emerald fallito che non sa sparare ma come facciamo a ucciderli scusate non ho capito permesso non lo so ho ucciso anche poldo ho ucciso anche poldo allora prendete tutto quello che ho messo entro e poi questo plant bomb io li sparo ogni volta che li vedo quanto dobbiamo fare di soldi ho rubato 26 mila dollari di roba io ho fatto saltare in aria le cose ancora zero sedia è perché non li ho ancora portati è tipo super sensibile il micro il coso questo non ha i capelli puoi comprare addirittura due giochi adesso che hai preso tutti sti soldi sì il computer è devo ricomprare il computer altro che i giochi no infatti ragazzi purtroppo non funziona l'audio mi spiace io ragazzi mi sono perso un po' di cosette se sono se sono stupido vi prego ditemelo eh ruba i soldi ma non so dove sono li ho trovati solo sedia ragazzi sono insomma io ho fatto saltare in aria una cosa una un posto e qui dovrebbe essere una volta aperta dove poi ti può arrubare le cose e andartene ok ok abbiamo fatto un sacco di soldi mancano solo 4.000 4.000 4.000 6 da poi prende la potete fare ce la possiamo fare chat sono il big ladro sono il big ladro sono io ladroncolo il grosso grande ladro di cose no qui serve la bomba mi sa in quella cosa io ne ho fatto a saltare uno di cavo giuro mi stava per uccidere qualcuno quello che ho scritto bombe 56 sono io morto per terra ragazzi ma è normale che io non veda né berro fronzone è perché siamo morti tipo c'è credo che abbiamo due vite e basta io ne ho avuto a zero se io sono morto secco penso che ci sono due vite in generale per tutto il team figa brutta e non so cosa dirti qua ci sono dei cadavere non avevo idea dei dei collegamenti di questa cosa facciano entrare qua verso la maniglia c'è scritto eneter ma non c'è perché mi dice che c'è un coso lì e ma mi sa che c'è ma non può plantare una volta come faccio a prenderla la bomba perché non posso non mi sciusciare dio caro possiamo scappare scappiamo scappiamo ma ci hai fatto vincere ma io non ho capito un soldi di fortnite ragazzi che avete rubato quello avete rubato io ho rubato 32 mila che ne ha rubato io non ho capito niente allora io vado sotto allora dovete ciao cristo ciao sedia ora noi siamo le guardie siamo nella fortnite room tra l'altro officer spy davvero esiste una fortnite room si incredibile io sono l'fbi adesso allora no ragazzi scusatemi se non si siuma e mi dispiace per la live caotica non si sente l'audio del gioco e non è partito quello e non è partito quell'altro mi ha crashato prepotentemente il computer le live di solito sono fatte un po meglio di così un po meglio non troppo un po giusto poco poco veramente allora allora cop with cristo bro dobbiamo sfragassati il culo a questi tu hai idea di come si gioca fra ti sei mutato per salutare la già si è mutato sono da solo sono da solo sono da solo sono completamente da solo ok allora il trucco è questo innanzitutto cristo si è messo quello che voleva io dovrei uccidere delle persone ok eccomi scusa grazie no magari mi avvisi quando te ne vai così io non parlo a vuoto appunto te l'avevo detto devo ringraziare un paio di cose ma no ma non hai detto ma io non capisco va bene va bene fra va bene ah ho sbagliato ho ucciso una persona che mi sembrava una persona che non era nel pc ok allora big boliziotto big boliziotto allora bro niente era era una gambling fatto un po di gambling ho sbagliato scusa ma che cazzo ma perché leo può prendere una pistola e spararmi pressa nikitu respawn ok respawn leo e uno in rosso leo e uno in rosso ho ucciso perro godo ce la possiamo fare ma poi perché non ho capito perché ma poi perché possono respawnare allora non ho capito sta loro possono respawnare anche noi pure noi eh sì abbiamo due vite loro una ok a noi abbiamo due vita e loro una quindi loro sono mezzi fottuti va bene lo sapevo lo sapevo arrivo 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 che colore ho cariato sto giro ho cariato ma perché l'hai ucciso ho ucciso le web erano azzurvite godo dobbiamo trovare solo eme e coso e e poldo mega w in chat m e poldo 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 sono entrato nel nel gaming che cazzarola saranno poldo ucciso ma dai ma vero sì guarda la chat cristo santo dov'è sono troppo forte sono una guardia bravissima devo trovare poldo fatemi mangiare allora devo vedere qualcuno che si muove in modo un po strano cristo santo letteralmente lì ci sono troppe persone da sole ok cercando di capire ho fatto il culo a tutti ragazzi sono il boss berro fronzo allora quindi teoricamente sono ancora vivi loro no loro sono ancora vivi non so come funziona forse se ora li uccidiamo ce la possiamo fare cristo sta mangiando puoi dire almeno che cosa stai mangiando allora polpette dietetiche di una ricetta speciale della mia nutrizionista con verdura e carne buono si ragazzi un altro w in chat perché ho perso 27 kg mi ha ucciso emerald no eh sì era la mia seconda morte sono sono vivo sono vivo però è brutta merda eh vabbè no non è possibile quindi ora anche noi dobbiamo zero vite no mi dice per pressa niki tu respawn cioè posso tornare all'infinito cosa servono le vite cosa servono le vite scusami non ne ho la minima idea che senso hanno le vite non ho capito dai perché uno uno dovrebbe fare tipo le cose sneaky dovrebbe fare le cose no questi qua arrivano e sparano ma che cazzo quando porti in live blackjack ragazzi non sono il gebrone grazie per i 200 bit sedia ma ci sarei all'etna comics no non penso la polizia a due gambe mi si è bloccata la chat ragazzi non so per quale motivo non vedo la chat ho sbagliato ho ucciso una persona che non era veramente perfetto ora è live chat perfetto ciao ragazzi mi sa che sono morto io sei morto sei morto dal gaming sì serio sono morto dal gaming anche pold è morto le e totale siete totalmente sei morto non puoi rispawnare non posso risponare sei rimasto tu cazzarola e mo e mo sono attento eh no 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 SOMges Ma sono morto come è possibile parecchia putustina tutti Ok, abbiamo scoperto due cose. Eh, va, 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 sei dietro, ho sparato due, ho passato due volte. Eh sì, vabbè, ma qua non è forte. Non è che io ti sparo e muori praticamente. Spararti, spararti in questo gioco è un suggerimento. Ragazzi, io vi ho fatto malissimo a sto giro, sono troppo forte. Sparare in questo gioco è un fottuto suggerimento. Ok, Leo e Berro sono i poliziotti. Sì, a dopo. A dopo. Ci buttate sotto voi? Cristo santo. Oh, allora, abbiamo scoperto varie cose. Uno, la bomba dove l'hai presa? Berro. No, Berro è un poliziotto, no! No! No, è l'unico che lo sapevo! Allora, ce la possiamo fare. We can do it, guys. Ce la possiamo fare, boys, dai. Che dobbiamo fare? Con l'ingegnere, io ho l'RCX di Black Ops 1, la telecomandata con la bomba. Eh, questo è incredibile, ingegnere. Provalo, provalo, provalo. Eh, infatti lo provo, ora vediamo. Molto figo. Io provo questo, provo questo. A me sta piacendo da morire, però è bello. No, no, ma è bello, è bello. È bello, eh. Però non ti ho capito. Non ti ho capito come si viva. Evitiamo di vincere uccidendo gli altri, proviamo rubando. Allora, ruba, devi andare nei cavò, piazzare una bomba, farlo esplodere e poi portare al fruttone. Ma dove sono le bombe? Questa è la bomba, questa è la bomba. Però se te la metti nella schiena, gli altri lo vedono. Quindi, prendiamola dopo. Questa qua è la bomba. Prendiamola dopo, una volta che abbiamo capito quale cavo vogliamo attaccare. Ma perché tu hai l'icona del telefono? Tu hai l'icona del telefono? Non lo so perché. Ah, perché sono l'hacker. Lackers. Creatore, fai la tattica e ruba tutto dalla banca di Napoli. Lo so io quale tattica devo fare. Ragazzi, ho tirato un drone, aspetta. Ma se vedo posso sparare? Ma io non te lo consiglio, bro. Piuttosto facciamo play... Play safe? Beh, prima non avete fatto molto stealth. No, stavamo capendo cosa fare. Allora, vado, vado. Io vado tranquillo. Allora, io sono sul tetto dell'edificio, ragazzi. Raga, riuscite a distrarli? Io gli rubo tutti quanti i gioielli da questa parte. Io vado tranquillo, piano piano. M, M, c'è qualcuno qui in zona? C'è uno col drone. Chi è il drone? Col drone? Cristo, Cristo. Uno di loro è col drone. Mi ha appena passato davanti e non si accolta. Ma quello che ha la SWAT, secondo me, è un... No, 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 no. Ok, niente, 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 niente. Forza puttana, non posso spaccare. Chat, chat. Chat, fate silenzio. Io ho appena asciugato. Ragazzi, sono dentro un coso. Io ho appena asciugato tutto di scena. Io sono al bunker. Sono al bunker. Cosa? Sono al bunker, piazzata la bomba, raga. Sei in quello sotto? Sono in quello sotto, venite a darmi supporto. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Ragazzi. Uno di loro mi ha sparato. Merda, sono morto. Mi sto camminando come un RP. Non ho smesso gli sparati. No, vi sciuscio. Quanto voglio, chat? Vi sciuscio sì, perché dovete fare silenzio. Dovete capire che questo è il gaming silenzioso. Raga, andate a prendere i soldi nel bunker, quello sotto, vicino al bagno. All'ingresso del... Io ho 24.000 nella sacca. Ok, devi andare, devi andare al furgone, bro. Un attimo, adesso vado al furgone. Adesso vado, adesso vado. Ok. Non si aspetteranno nulla. Ragazzi, io... Ragazzi, io... Ragazzi, io... Sto andando al furgone con 30.000. Vai, 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 vai al furgone. Oh mio Dio, oh mio Dio. Vai al furgone, ti seguo, ti seguo, ti seguo. Ho 24.000 nella sacca, cheat, shrek. No, non è la shrek. No, mi hanno sparato, figlio. No! Cazzarola, c'ho 20... Oh, i soldi? Veramente, ragazzi, la mia... La mia cosa... No, 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 no. Chi c'è qui fuori, ragazzi? C'è qualcuno vicino a me? No, 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 no. È un ardubru, lo sapeva, è un ardubru. C'ha la puzza, c'ha la puzza tutta. Ma... Ragazzi! Punto. Sta bagnando le polpette, quello, è ovvio che non è concentrato sulla partita. Scusate, ho fame. Non è possibile questa cosa. Sono appena tornato alla scuola, sai, ho fame. Il problema è che Poldo ha un... Poldo ce n'ha 26.000. Sì, ma un cazzo di insalino con i soldi che gli escono fuori. Ma infatti... Corri, corri, bro, corri, 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 corri. Corri, 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 corri. Allora, raga, dovete fare altri 4.000. 4.000. La mia sacca era piena di soldi. No, è rimasto vivo solo Poldo. Merda! No, ragazzi, non ce la farò mai. Non ho la bomba, però. Che te ne fotte. Vai a prendere, vai, te lo dico io. Vai sopra, vai sopra. Ci stanno le collane. Basta che ne prendi tre. Rompi il vetro, prendi tre collane e riscendi a tutta velocità. Esatto. Vai, ce la posso fare, ce la posso fare. Vai, cazzo, vai. Hai il pipe in chat, chat. Poldo! Poldo! Dove devo andare, sinistra o destra? Sopra. Sinistra, 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 sinistra. Giù le rivedi, vedi giù le rivedi. Vai, aspetta, aspetta, aspetta. Vedi le collane a sinistra. Allora, vai. Ok, ok. Vai. Rompi. Prendi le tre, 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 te ne servono. Uno, due e tre. Corri, 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 corri. Corri, 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 corri. Vai, 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 vai. Let's go, let's go, let's go. No, no, no. Corri, 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 corri. Corri, 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 corri. Let's go. Let's go. Easy. Easy, easy, easy. Easy, easy, easy. Easy, easy, easy. Easy, easy. Oppia voce. Game, game, game. Ma io ho visto uno di loro decollare. Allora io dove vado vado in io faccio random così Allora come cazzo funziona il cobb c'è allora col backup rescue ladder io faccio il firefighter così almeno Uso l'autosniper dei... Allora io ho delle abilità credo che proverò la spia tipo quelle di team fortress come si chiama si 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 Sono un pulotto ragazzi c'ho anche il baffettone il baffettone è quello lì proprio anni 80 Ammettiamolo nessuno si aspettava che pull do pincesse correttato Cioè io prima sai cosa facevo proprio sparavo un colpo ai poliziotti che si giravano io poi camminavo da npc tranquillo e sparavano tipo a qualcun altro e morivano Ok ok devo stare attento allora Allora io con la spia c'ho l'abilità di far diventare me stesso come un npc Ok io c'ho l'abilità di fare tipo le scale di vedere le telecamere io posso vedere le telecamere cazzo E mi sa pure io ma adesso mi vedi mi vedi che sono un customer Sì si si vedo che sei tipo bello elegante Codo 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 Shhh shh raga chat Mo' è il momento Io ho insegnato la tattica Io ho insegnato la tattica quindi devo stare attento a queste zone Mi stanno sparando mi hanno ucciso mi ha ucciso Leo Io stai sta sopra ok arrivo Sì 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 Non se lo aspetterà mai Sì Non se lo aspetterà mai Mi sa che a questo punto tocca già uscire con le armi Forte Godo 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 Ok Godo Chi sta sparando a chi? Io io Leo L'hai ucciso? Sì 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 Godo gamers Cazzarola Stanno provando ad arrivare qua sopra Adesso mi metto camperato qui C'è un cazzo di drone qua Ok Devo solo capire chi è chi Tanto tanto quando quando non mi vedono Vedo già questo qui che sta andando un pochino troppo veloce già Controllo Sospetto raga Molto sospetto C'è uno che corre fuori Ok Io copro il piano di sopra comunque Allora Ne ho uno davanti Ed è fermo Ok Eh beh Eh beh Eh beh io sto Io sono molto confuso in questo momento Tu che avevi ucciso? Io ho ucciso Leo Grazie Ale Un bacione Grazie dell'abbonamento Bentornato Abbonamento da 13 mesi Porca puttella E' la madosca Un botto Poi su YouTube Godus Io Sento loro che stanno spaccando roba vedi eh Staranno sopra secondo me Allora Visto visto uno Fatto fuori Godo Godo Era Cristo era Cristo Ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo Quanti ne sono Ma perché non fa vedere quanti quanti ne rimangono No no perché adesso è vivo tanto poldo e berro Poldo e berro Sì lo vedi da sopra Possiamo farceli secondo me Considera che hanno ancora 6.000 quindi è a long way to go proprio Allora io andrei a controllare solo i vault Giusto per essere tranquillo Sì sì Spia è fortissimo è vero Stai correndo tu? Sì Ho allarme? No l'ho allarmato io per sbaglio Ok Vedo un attimo le telecamere Mmm Qua sta cosa mi puzza eh Sì Qua mi puzza forte Uno ti ritera col coso mi sa Col Con il Con cosa? Con lo zaino Non ho visto nulla Che cos'è? Sei tu? Una bomba Bomba al cavo sotto Cazzarola è difficilissima sta cosa Madonna sto concentrato proprio da gamers Chi hai sparato? Nooo Berro È nella sala principale Ma quali? Chi è? Eeeh Non lo so c'è poi il pompaz Adesso Madonna raga Gaming Aspettate Ah Però stanno ancora 6.000 Questa cosa è rassicurante Sì Contro un attimo le videocamere eh Vai fai Sopra non c'è nessuno Nessuno con lo zaino E uno con la zero sta scendendo le scale principali Ok Ho visto? Ok perfetto Fatto Se cazzo Goto Cazzo Bravo Bravo Eme Mamma mia Manca sono due Le telecamere Ecco manca uno La dietro la dietro Fatto Let's go Let's go Grande Eme Grande Goto Le bestie Le bestie signori Buonasera tutto cazzo Cazzo Allora prima di andare avanti due regole Se avete lo zaino con la bomba si vede Attenti ai vestiti perché tipo i civili non possono stare nelle zone dei dipendenti Quindi se c'è un civile la vuol dire che è un player Bisogna swapparsi i vestiti con un NPC che uccidete Se gli date un pugno cade a terra potete fare swap vestiti Ah si questa cosa si lo sapevo Ragazzi voi lo sapete io sono nato sbirro Siete un po' troppo forti secondo me E' una cosa bruttissima da dire Perché davvero scusate Allora Chi siamo? Let's 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 Perfetto Allora Allora io Prima ho usato la spia ed è fortissima Io uso l'engineer solamente perché c'è lo shotgun e può tipo one shotare le persone Cazzo ho fatto volare Ci sono delle cose che può fare ad esempio il ninja Posso entrare in degli scatoloni ma non so come entrare in degli scatoloni E devi premere i tasti tipo QE che stanno vicini in basso a sinistra Ok Comunque attento sedia che oggi è berro che non ascolta Ragazzi non sono una donna Scusi Proviamoci Ragazzi è tempo Di immigrare Di immigrare Nella Romania Nella Io vado full Sono un NPC adesso Sono un fottuto NPC A me piace rubare la gioielleria Io sto pensando ad essere un NPC Quindi non sto pensando Dovete pensare come un NPC Muoviti dal NPC Tu vola disinvolto Esatto Fate finta di nulla Ragazzi mi raccomando Volate come un'ape e pungete come una farfalla Voi non dovete pensare a tutti i vostri problemi Era letteralmente Va bene Gaming 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 In the gamers In the gaming Shhh Non devi fare Non mi soledicare le palle Non lo fare Non lo fare Ah è vero avete ragione scusatemi Shhh Ragazzi prendete una farfalla e pungetela No Vai cristo 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 No no Aiuto ragazzi nooo Aiuto No mi ha ucciso Eme Cazzo Oh cristo Porca puttana No Eh me l'ho ucciso io Raga gli ho sparato due volte con il cazzo di fucile a pompa 24.000 vi prego Eh l'abbiamo persi Eh me l'ho ucciso io Mi dovete fuggere Ragazzi avete visto il sangue che schizzava viva è sopravvissuto a due colpi di pompa Non so come cazzo ha fatto 20.000 sono davanti l'entrata Vai 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 Ragazzi è che non gioco spesso a fortnite va bene Non è vero ci giochi tutti i giorni ci giochi tutti i giorni a fortnite Non è vero non è vero io non gioco spesso a fortnite Ci giochi tutti i giorni Bro ci giochiamo tutte le serie a fortnite Adesso il ladro dai Cosa devo fare Ma raga ma mettete random team così decide il gioco Io metto random Io ho fatto random Ma siamo tipo sempre con la stessa squadra Ok si va bene ok Ma cazzo ma scusa un attimo no M emeraldo di smeraldo Ti ho sparato due volte con lo shotgun E due volte Ma lui gioca si è possibile Si chiama perfect ice 2 Esattamente Io mi dispiace ma berro Berro Sono io Imprendibile Imprescindibile Seringa Vabbè io faccio quello che sono nella vita reale Gioco troppo a fortnite ragazzi non gioco abbastanza a fortnite Io non gioco a fortnite Che posso rubare i cavalli Cosa vuol dire? Penso che metterò questo per il meme Io faccio l'ingegnere ragazzi Io faccio l'ingegnere No 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 vado di insider Io nel frattempo guardo atletico madrid inter Ragazzi non mi dite che cazzo di cose sono gli altri Non mi dovete spoilerare le cose Ma guarda che fortnite ci giocano tutti E infatti Io non ci so Non assumerò mai più Che gli giochi a fortnite Ma stati zitto Ma stati zitto che ti ho visto fino a ieri giocare a fortnite Ma io gioco a ciò metto i dash ragazzi Ma sei compito di per sbattare i due giorni Non hai migliorato per niente la tua situazione Minchia prova peggiorato Allora Noi abbiamo già guadagnato 2.000 dollari Ah bene Per il semplice fatto che il mio personaggio tipo spawna con la maschera di Donald Trump E spawna con 2.000 dollari di suo Quindi proprio la valigetta è vicino alla cosa Quindi possiamo dire di non averla finita a mani vuote questa cosa Ragazzi io uso la macchinetta esplosiva La macchinetta esplosiva No 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 Dove sta dove sta dove sta Eh gioielleria Sarà tipo 10.000 Raga è difficile Chi è che c'ha la macchinina? Io 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 C'è un tizio che palesemente sta camperando qua sopra con la pistola Però l'ho voluto sparare di persone con paura Sempre lì perchè è facile ragazzi Cioè io a me sono caduto Eh vorrei È là dentro eh è là dentro sedia E dentro queste porte c'è un tizio che tipo Berro È complicata questa situazione ragazzi è molto complicata Ma bastardo 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 Sono sempre sopra Ne ho ucciso uno Vabbia sedia sei fortissimo Inchia Niente ragazzi Ah l'autilo del cazzo Ragazzi però dovete descriverli Cosa dobbiamo fare? Vedete descrivere come sono vestiti Sono è rosso è rosso Troppi rossi qui Da svidani a tovarish Ma basta con sto cazzo di coso Ragazzi io c'ho Io c'ho Ma tu sedia ti vedete si vede che hai un boom boom come si chiama un sacchetto sopra la testa Ah davvero? Eh sì Ah Sedia scappa Scappa via Sto per scappare Sì 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 Io ti seguo con la macchinina eh 3 2 1 Aspetta Vado eccolo tu Esco da qua esco da qua Va bene va bene Ho avuto uno stroke Cristo Ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'hai? Ce l'ho 12.000 ragazzi abbiamo 14 Grande sei da mamma mia Siamo entrati nel gaming? No non ho preso la tua sacca Non ho preso la tua sacca Ci sono altri 12.000 12.000 miei ci sono la Ok Stanno campionando come bastardi sopra questa cazzo di cosa Stanno campionando sulla borsa? Eh sicuro Porca troia Eh ragazzi prendiamo altro Tipo l'omega 3 come polvo? Io posso far esplodere mi sa qui la parete con la bomba Ah 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 ragazzi è il game Oh sì sedia più forte No è dubido Sì sedia Allora Vai più forte mauro Faccio scoppiare quella cosa dai Faccio scoppiare questo Sedia Porco che è successo? Mi sono cagato addosso È stata la mia macchinina ragazzi Ti puoi far saltare in area quella macchina Che cazzo hai fatto? Scusami Ho una macchinina esplosiva Fico Che fa? Capito? Esplode È quello che è successo Merda Letteralmente è una macchina che esplode Bella Ho fatto esplodere proprio dentro la stanza vicino qua E gira tutto intorno alla stanza Sì ma se corricchi ti si sgama un pochettino eh Ragazzi ho aperto il cavo L'hai aperto? Sì Dove? Quello qua Quello dove c'è Dove ci sono i cosi Qua 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 i I gioielli Io sto provando a vedere se c'è tipo gente che tipo Allora Sto facendo da palo praticamente Io tra un po' andrei a prendere qui 12.000 molto soccosi Please Emerald è carico di soldi come una zampogna Ragazzi sì Ragazzi sì devo scappare da qui Ragazzi ma si sente questo rumore eh? Ragazzi Hai sparato direi di sì Porca troia mi ha ammazzato boldo Mi ha ammazzato Mi ha visto perché ho piazzato Ce l'ha fatta Uscite 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 ragazzi Andate andate Ce la potete fare Berro devi andare calmissimo Calma verso il furgone Non correre piano Non far vedere che non sei un NPC Vai piano Vai piano Guarda come cazzo sono un NPC Sei un NPC Berro Pensa come un NPC Però hai 45 secondi Quindi sarebbe il caso che te muovi Esatto Che te muovi oh Che te muovi Il fungore a destra A destra E anche lì Ma io sono un NPC Mi devi rompere i coglioni porco due Sto zitto sto zitto E quello a destra vero? Sì Quello blu Sono un NPC Sono un NPC Devi andare dove si guida eh Stanno camperando lì Stanno sicuramente camperando lì È quello dietro di me Berro hai 10 secondi Berro Corri Berro Ma devo andare dove si guida? Eh Previ qualcosa Vai e poi Sè Sè Let's go Credo di essere uscito Ma voi ragazzi Secondo me non gestite molto bene l'ansia Per niente 6 secondi Per niente Per niente Nel mio curriculum c'è scritto Non riesci a fare nulla in caso di stress Che falle Mincia 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 Cinque mila dollari Madonna ragazzi Che fatica Ma come cazzo è possibile che io avessi 49 mila dollari in culo a casa? Come funziona? Perché le avevamo presi noi brother Esatto Ok E li avevamo già piazzati però eravamo tutti morti Avete detto tipo che bisognava andare dalla parte del guidatore perché sennò io tranquillo andavo dietro eh Porca puttana Ciao ragazzi Ciao Ciao Non è male È divertente come gioco Molto divertente però mi sta facendo male il cuore Sì Io non so giocare Sono troppo Stupido Chi hai? Allora Io ragazzi ho l'insider Io il ninja Io ho il ninja partiti già da dentro Potete partiti già da dentro E prima mi hai ammazzato perché non avevo capito che stavo Drillando tutto quanto il Il palazzo No no io ti ho capito perché ti sei girato tipo di lato Mmm Mamma mia Ci fanno dritti Gaming Ha fatto il gaming Ho chiuso la porta Che gli NPC non lo fanno Insider si chiama Già sei dentro praticamente È molto carino È una classe Che si chiama insider Allora loro hanno la spia quindi occhio che uno di loro potrebbe essere Tranquillamente un Un poliziotto Ah Sedia tu Ok già sei dentro Ok ok Io sono dentro Voglio andare a prendere il drill e posizionarlo Ok è un poliziotto vicino Questa è un poliziotto Questa è un poliziotto Allora ragazzi io ho la macchina esplosiva Posso far esplodere Se mi aprite la porta della gioielleria Posso far esplodere il drill Sicuro? Sì e l'ho fatto prima Ok allora ci penso io Emme tu vai al furgoncino C'è un giro del fuoco qui eh Sì sì tranquillo tranquillo Io vado al Ad aprire il bunker qui a sinistra Sì intanto io ho la macchinina telecomandata Mi metto qua fuori E incomincio a girare con la macchinina Ragazzi io ci provo Che stefa? Tutta la gioielleria tutta Arrivo 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 con la macchina esplosiva Se appena ti sparano Li faccio scoppiare veramente Ma perché è sempre questo? No no è noto è noto Dove è dove è? L'hai ucciso? Perché non posso piazzarlo qua cazzo Emme emme ti sto per aprire la porta Arrivo arrivo 24mila Ce l'hai in mano? Qua la porta è aperta 24mila 24mila Arrivo arrivo con la bomba Ci ho aperto la porta del cavo Dove? Quale cavo sotto? Allora la porta del cavo è quello sotto Una volta dall'entrata tutto a sinistra E quello tutto a sinistra Vado 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 Merda No cristo no no Ciao Goldo Ma sono rimasto solo io? No 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 ci siamo io Emme e Ragazzi non rompetemi il cazzo Ho preso 24mila Li hai messi? Si li hai messi guarda Ah bravo 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 Allora in realtà basta una colla Ah no le hai rubate tutte tutte Dobbiamo fare esplodere sto cavo Emme L'ho preso tutte Eh lo fate esplodere non è esploso? No ma non è questo allora Allora no ho fatto questo qui più qua dove sono io Ah però mi disguise sono cavolo Dove sei? Dove? E in questo qui vieni qua vieni qua vieni qua seguimi Shhh Stai Hai i vestiti sbagliati bro esci subito Eh invece sto uscendo di qua Raga raga mi dite Emme 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 Sta qualcuno la? Sì 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 ci sta il file Poi l'effigiene del fuoco Di qua di qua di qua Poi il due qua di qua Raga io devo uscire raga io devo uscire c'ho 32 nel culo Eh scisci della porta Questo è un poliziotto bro Ah no ok Prendo l'oro? Prendilo solo tu Siamo tutti qui? Sì sì prendilo solo tu Raga? Lo scappo? GG baby Ah le hai presi pure tu Ho preso l'oro Ho preso i lingotti loro signori Da dove? Allora praticamente io ho fatto un buco sotto Ho fatto un volto e sono salito Ho preso quattro lingotti d'oro e sono uscito Cioè tu puoi fare i buchi sotto terra? Sì Ma wow Io sono il gamer Il gamer Sono pazzo Sono pazzo GG uguale grande gamer Ragazzi io mi sto scellando tantissimo in questo gioco Mi sta prendendo un sacco Questo è un problema Potrei sviluppare Per avere i soldi per il quale Io sono cleptomani ragazzi Allora Allora io penso che prenderò Il distrattore Sempre l'insider L'insider mi piace troppo Perché io ho un trattore ma è distratto Ma io ad un certo punto Penso di averti visto con la maschera Ma non ne sono sicuro Sì ero io E perché ti vedo la maschera? Non dovrei vederla? È sbagliato È sbagliato Non lo so perché Sinceramente non so che tipo di cosa è Allora aspetta che vado a vedere cosa sta facendo Atletico Madrid Inter Io seguo il cazzo Ok No Boh non lo so Forse perché poi sei pazzo Non lo so Forse perché poi sei pazzo Disse quindi sedia Che cazzo di gaming che avete fatto prima Allora aspetta Ma non fare se stai cercando di capire cose No lo dico alla chat Che la chat deve capire che è un momento gaming Amala pazza Inter amala Perché Bru ha già Che cazzo Eh si è mosso in maniera troppo Era qua Sussi Era un sussi Era un sussi bacca Troppo sussi e troppo sessi Ragazzi Sussi bacca Voglio un poliziotto ragazzi Mi sono Mi sono trasformato da poliziotti Oh oh è passato un poliziotto Eri tu? No non eri tu Io vedo Leonardo Bru solamente perché c'è il nome sopra Io non ho ancora capito come nascondere Cioè prendere la roba Io non ho ancora capito un cazzo Dov'è la bomba? Dov'è la bomba? Allora Emerald sei poliziottissimo Ah che forte che sei Se non l'avete vita ditemelo Sedia Allora io ho la macchinina adesso Eh mi devi coprire mentre vado al vault Vai 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 Aspetta che mi sono ingamberato sulla cazzo di macchinina di merda Attento attento Cosa cazzarola è stato? Un civile che è morto a caso Non ho avuto paura Io Sto al capo sto al capo sto al capo Piazzo e me ne vado Vai via vai via Hai messo il pene sopra le persone? No Senti dove hai piazzato la bomba? No 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 non l'ho piazzata la bomba Io adesso faccio il drill Cristo non vedo un cazzo Pucco sotto il vault Appena finisce io posso salire nel vault E aprimi questa porta Aprimi questa porta Quale? Questa qui c'è il vault E questa? No! Stiamo memando fortissimo dentro al buco del culo Mi ha ucciso Mi ha ucciso E non capire una cazzo E sparare a Leo Basta questo è quello che bisogna fare No siamo già morti Ragazzi io non so se ho soldi addosso Come lo vedo? Posso cambiare? Tipo toccati le tasche Se sono piene vuol dire che c'è il portafoglio Potete esplodere Raga il vault mi sa che è aperto A questo punto Mi devo sparare a sto sergente no? Ma è Leo Ma è Leo Madonna Corri 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 Come li metto dentro? Devi andare dietro dietro Sono dietro Bravissimo Leonardo Bru Che forte Ho hackerato i E ho hackerato i Serben di Minecraft Ce la posso fare Ce la posso fare Ce la posso fare Sì E ora torno ad essere un MPC Sedia ti giuro che ti sto immaginando con gli occhiali da sole E il rivolo di sudore che ti cola dalla fronte Non hai idea fra Stai tipo tryhardando Ragazzi faccio esplodere il vault qua dentro I campionati mondiali di Perfect Haste 2 Totale Cazzo è successo Totale fattuale mio padre Ho fatto esplodere ragazzi il vault Successo del gaming Staranno tutti al vault e io adesso godo Shhh Raga Ditemi Ragazzi Come fa? Cioè io sto MPCando da un'ora Arriva Poldo e mi incula Ma perché? Come ha fatto? Mi sto Perché forse non dovevi essere lì con le MPC Da Signori Io sono MPC Io provengo dalla campagna Ok raga raga piano 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 Cambiamo mappa Ok L'ultima che hai fatto su berro Sì Non ho ammocciato raga Perché l'ho fatto? L'ho fatto solamente perché ero in un posto dove non dovevo essere tipo Sì esatto È rivestito da Da civile È rivestito da civile Ah ok Provengo dalla campagna Quindi hai proprio visto che non avevo la... Oh no Cambiamo mappa Allora No ho cliccato Ho cliccato quit Porca puttana Come faccio ad entrare? Pazza Interamma la segnata 1.0 Chi è stato? Ok Tornando alla lobby Tornando alla lobby Ok Miglior gamer d'Italia Sono proprio io Guardatemi Allora Create server Server list Madonna sto gasatissimo Sedia viene dalla luna Che il cielo lo attraversa E trova in opportuna La parola per una cultura diversa Sì esattamente La parola per una cultura diversa Sì esattamente La parola per una cultura diversa L'ho fatto attaccato sul cruscotto Non hai capito che sono disposto a stare sotto Se avete quanto ho fatto Vai perro vai perro Come si chiama il server? Come si chiama il server? L'ossermanos come sempre Si chiama l'ossermanos La password è piedi2 Stavolta Ma è piedi2? Ma perché l'hai cambiata? Brong password Perché così non trovate quella vecchia Sì ma adesso io sto inzionato della giusta Che con la password sbagliata E c'ho tutto bloccato Piedi2? Piedi2 sì Oldo è tutto bloccato Ma l'ossermanos Io ti giuro che non vedo Non me lo trovo Gaming No piedi2 Ce l'ho ce l'ho ce l'ho Piedi2 Piedi2 Non riesco a trovare Il nome del server Ma perché? Mi riflesso Un F2 che si può riflessire Piedi2 Sì ma tu sei dentro Leo Adesso sono entrato Ok Oggi sono caotico Chi manca chi manca manca berro Ragazzi No sono officer Ragazzi Non so come si trova sto cazzo di server Ho bloccato Al capone Al capone No Al capone Garmax No ce la faccio il martello Cosa? Eh Ti giuro si What? Berro vai nell'anno Io sono co Piedi2 Sedia siamo copi Sono comunista Fate ridi che così rifaccio la lobby così entra Berro Ah Entrato 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 Non sceglierà la classe ma c'è Io avevo una classe a caso Va bene Chi sono i poliziotti? Io e Cedia Stuff Sto io Allora Leo Gaming Gaming Io adesso sono un customer Questa è la mia cosa preferita Adesso posso vedere dove vanno loro e poi gli sparo in culo ok? Io sto davanti ai cosi customizzato da persona guardia Chi ha sparato? Non lo so Stai attento eh Sono attento come un mandrillo Tu non puoi stare qui dentro Tu non puoi stare qui dentro L'ho ucciso? Sì, era Emerald Sì, l'ho ucciso Ok Non può stare qua dentro, non se ne rende conto Ok, shh Ho sentito Stanno andando i gioielli Stanno andando i gioielli, piano vai tu Stanno tutti spaccando Come cazzo? Hai cambiato la mappa? Eh sì, è un'altra L'ha detto poi oltre che la cambiava Io sto, tengo d'occhio qua Tu vai lì Mamma mia ansia Se mi notano Eh vai diretto che ti devo dire Io sto qua per vedere se arriva No, non posso andare diretto da qui, è dal piano di sopra Piano di sopra Ok, lo sto vedendo, sta correndo Sto aspettando C'è uno sul tetto, non so per quale motivo Come c'è uno sul tetto? Mi hanno ucciso Merda Verro cecchino Cristo Dio Ah, ho trovato come è andato sul tetto Ho trovato come è andato sul tetto Adesso lo ammazzo Bardi Bastardi Sedi c'è un gatto in camera da letto Ma non è più sul tetto È sceso Mamma mia Non è possibile sta cosa Ma è difficile due contro quattro Mannaggia le palle Stanno già a 24 su 30, bro No, era un civile C'era qualcuno sul tetto che ha provato a spararli Ma era un civile Ho ucciso Berrofronzo Ok L'importante è questo, sedia L'importante è questo Ma poi non può rispawnare Ma io non posso più rispawnare Perché? Eh, se muori tipo più di due volte Se non sbaglio Eh, ma abbiamo ancora quattro vite Ah boh Beh, sicuro Posso guardare le telecamere, però Dimmi se c'è qualcuno di strano dove Sto guardando, sto guardando Morto GG Cristo e Sparpol Chi manca? Poldo Che droga lo devo trovare Io sto guardando l'entrata Se lo vedo qualcosa di strano Qualcuno che corre Eh, sto vedendo C'è troppo Ci sono troppi NPC Si capisce un cazzo Troppe persone Madonna Madonna Grazie Cori della donazione Un bacione Come va? Ci sto provando Ci sto provando Ok No, raga Grande Cori Grande Cori No, sta sparando Poldo Non lo so dove Ho sentito io sparare Sto andando Sto andando a vedere Se la puoi fare Sedia Ce la posso È rimasto solo lui? Eh sì, è da solo Eh, cazzarola è tosta questa Andrà al furgone Andrà al furgone Probabilmente No Ma dove cazzarola sta? Non lo so Dov'è? Non lo so Ho sentito un pip Sono io Sono io Ok Mannaggia Questa cosa È tesissima È teso È amio Uno si sta muovendo In modo un po' strano Fra È tostissima Riesce a vedere qualcuno Dalle telecamere Non riesco a vedere un cazzo Non riesco a vedere nulla Sto guardando le telecamere Ma non vedo Ma il fatto è che Che cazzarola stanno facendo allora? Cioè qual è il gameplay? Non lo so dove Poldo 43 secondi Se non ce la fanno Finita Sto guardando le varie telecamere Ma non vedo un cazzo Stanno fuori Stanno su Fra Ah io non capisco Dov'è il gaming Poldo? Dov'è il gaming? Dove stanno? 21 20 Io non trovo nessuno Non trovo niente 10 secondi Allora ho sentito uno sparo Pure io Torno all'entrata 2 secondi 1 GG Ok Posa? Ma def Def Perché? Non ho capito Un secondo raga Un secondo Non ci posso creare Un secondo Ha fatto una cosa gaming Che veramente Ma a me ha buttato fuori Dopo una morte Anche se avevamo altre vite Non potevo risorgere Devi guardarla in alto Vuol dire che questa mappa Ne avevamo quattro Ne avevamo quattro Non mi faceva risorgere Non lo so Comunque c'è una persona Che overpro a sto gioco Mi sta cominciando a dire un sacco di cose Tipo c'è l'overtime Con i soldi addosso di un minuto Che cazzo Che cosa incredibile Va bene gamers Non dire che sei già stanco Perché non ti credo Totalmente Sono le 21 e 43 Un ultimo te la puoi fare Questo gioco è bellissimo Faccio yesl Allora Yesolo Yesolo sì Yesolo Madonna Ok però abbiamo capito Come funziona Questa banca Più o meno In chat mi dicono Polda ha chiarato tutto Ha preso l'ascensore Ha rotto la vetrata Ma ce l'ha fatta comunque Non ci posso credere No yesolo ragazzi Non è una mocciata Chat Calmatevi Non so cos'è yesolo Ragazzuoli Io sono già dentro Allora io sono già dentro C'è già una bomba C'è la macchinina Vi ricordo Posso aprire un bunker Io voglio Io voglio fare Il mio solito gaming Del drilling Secondo me ce la faccio Allora devo solo capire Dov'è il drilling Innanzitutto Drill drill Where is the drill Eccolo là L'ho visto Silenzio You know the drill I know the drill Ragazzi io faccio scodere la guardia Kitchen Il vault è di là No Oh cristo del dio signore Che cosa cazzo Ho appena scoperto Sta al piano di sopra Elevator Vai 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 Il scensore è bellissimo Eh brother Com'è tutto a posto No no toglitela Aspettate Io mi nascondo qui Raga io ho già preso dei soldi 15 mila Io sono Qua ci sono dei funk O pop Raga Hool pè Un pè L'uscita Arriva Noi facciamo il solito gaming Adesso io sto qua Come un npc Fin che non siamo Oh mio Ti sta sparando da sopra Non ci so Ti begalo Quanto gaming c'è Nelle tue ossa Incredibile Gaming Ragazzi aspetta Ok E mi occhia E qui Bro tu sei vestito come una guardia Ti si vede L'ho saltato Va bene va bene comunque Che stai facendo Shhh Shhh Madonna che paura Nemmeno poldo Cristo mi ha visto Arriva arriva Raga secondo voi posso saltare Dalla finestra Non posso rispawnare Sì sì devi sparare alla finestra No non mi esce Vai vai Non esce Riprovaci Spaccala Cracciati No ok devi andare in quelle grandi Nel salone Ma cristo dio Sto facendo tipo Ragazzi Le vedi quelle grandi Da là devi buttarti Spara e vede Asci Spara e vede Ti copro Scopri 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 No l'hai Troppato gaming Come l'ho doppata Riprendilo e mettila Venti la mettila Mettila Ragazzi 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 Io voglio la clip Di come ho fatto esplodere Cristo Perché è complicissimo Bro mi hai usciottato In un mondo Ragazzi letteralmente Nel bagno Giro con la mattina Vedo Cristo che viene verso di me La faccia esplodere In quadratura mia Si vede proprio il fumo Che spunto Grazie infinite Stoglie di padroni C'è il nome È bellissimo Un bacione Grazie brother Vatti a recuperare i video inediti Ancora Ancora Perché Allora 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 Chi c'è Con me Eme 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 Ci sei sedia Ok ci sono Allora io vado sempre di Spy Che è una bestia Io vado di Coso Firefighters Firefighter Ok Sì 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 Allora io mi nascondo Mi nascondo Appena vedi delle cose sospette Fammelo sapere Che gli vado dietro E gli faccio il culo Ma Ma Prof mi devi fare la clip Della kill su Cristo Per forza è bellissimo No Ha fatto piscia Della risata Allora Raga Squadra vincente Non si cambia Avete capito Gaming Ma così Tranquillo Adesso mi metto qua Guarda le telecamera Si do un occhio Oh no Cerco di capire Se c'è qualcuno Che sussi Ok Ce n'è uno che corre Porca puttana Dove 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 Fatto L'hai ucciso L'hai ucciso? No L'hai ucciso Poldo Mi ha ucciso Poldo Sta Sta arrivando Verso di te Abbiamo perso Abbiamo perso Broder Hanno fatto la speedrun Sì Vuoi vedere Figli di puttana Bastardi No Ma mia Avete fatto la speedrun Avete fatto la speedrun Avete fatto la speedrun È l'inchiatri sedia È l'inchiatri sedia È che poldo stavolta ha capito Avete fatto la speedrun Io ho rubato Dai bancomat 18.000 Subito E io ho 12.000 Dai bancomat E tutti quanti si sono messi Da chiarare i bancomat Cazzo Poldo stavolta ha capito Che tra l'altro C'è il deposito Facciamo l'ultima E poi cambiamo mappa Ok Va bene Io devo cambiare già adesso Tipo Troppo tardi Allora siamo i gamers Sì Adesso faccio ninja Adesso faccio ninja Come mi ha suggerito Come mi ha suggerito Bastien Allora Chiarare i pitti della banca Silent step Allora Attenti che Poldo E Emerald Sono schiellati Eh lo so Io accro il pc Della banca E se ne accro tre Si aprono le porte Dei tutti Tutti i cavò Io sono Tech for play Black geek Chiamatemi Black geek No no Io sono black geek Con la J Mi ha suggerito Tu di fare Il ninja Bastien No Boh Io sto provando Un po' tutti Ok Eh io l'ho trovato Uno buono Comunque per vostra Informazione Metto già i primi 2000 dentro al Al coso Che secondo me Ho finito di cenare Chat Anche per voi Così non mi muto A meno che Tu non debba mangiare Non lo so Crostini tipo Fritti Crostinox Crostinox Paradossalmente ho mangiato Tre crostini Poco fa Hai visto Paradossalmente Come si accrano Ma voi sapete Ma voi sapete Ma significhino Gli avverbi O li dite caso Per riempire la frase Fa un culo Emerald No L'ho visto L'ho visto Bro l'ho visto Bella kill Madonna questa kill Stupenda Gran cazzo Belle palle Eh dai Ma è vero Ok Questa è una bella kill Tipo cecchinato Cristofor Ragazzi ho già Finito le vite Ma sono già morti Eh sì Se mori Mori subito È un crostinox È un appetitivo Che fanno nelle mie parti Beh ragazzi C'è fatta la sub Ma tu ogni 10 secondi Tipo lo dici Se fate la sub Risorge Esatto Dai ma come mi ha fatto A vedere Ah Perché è una zona Dove non puoi Fra Eppure tu lo sei Lo so Lo so Io sto creando i pc Sei hacker man Ok Non posso restare Eh no Non si può restare qua Allora vai Berro fronzo Sei di tutti No Ma io ho visto Il cazzo di pompiere Ma non lo vedo più Ok è tutta aperta Adesso tutti i cavoli Sono aperti Va bene Rip Allora dopo rimetto Quello che volevo rimettere io Lore Non è necessario Bestemmiare in chat Evita di farlo Un giorno potete fare Human fall flat Riazza L'abbiamo fatto 5 volte Basta Ne ho fatto 2 Veramente Per me sono troppe Buonasera Cookie Buonasera Ah così proprio Io te lo dico E tu lo fai A posto Non ti preoccupare A posto Leo 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 Come si Banna Dalla chat Ah grazie 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 Sommo Quanti soldi avevo 34 mila Dov'è che li hai Stesi? Davanti al camion Dei pompieri Quindi stiamo per vincere Stiamo per perdere Emerald è lì Che li guarda Ok vai da quella Gaming Ah cazzarola Proprio lì davanti Quanto durerà live Finchè non ci stanchiamo Anzi finché A destra Sì Altri 5 minuti No no dove vai No no vai Torna indietro Torna indietro Torna indietro Finché Finché Poldo Non si stanca Perché Perché legge vuole Che se chiude Poldo Chiudono tutti L'ho vinto Ha sparato un civile Non è impossibile È un caglione Black lives matter Stronzi Deve non cambiare Deve non cambiare Di sparare A chiunque Compia la barba Cazzo Eri entrato Nella metropolitana Berro No non era Fuori Prima ho fracassato Di botte La mappa Cambiamo la mappa Esatto Fate live server Fate live server Live server Live server Come si fa live server Scusate Godo 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 Come si fa live server Ah disconnect La password È piedi 2 Ok Di nuovo Sì Sì Perché devi mettere quel 2 No ora è piedi 3 Perdonatemi Ora è piedi 3 Piedi 3 Piedi 3 Piedi 3 Piedi 3 Piedi 3 Non c'è il server Buonanotte Cori Ok c'è School Island Piedi 3 Sì questa è incredibile Ok Non c'è il server Non lo trovo io Nemmeno io Ah di fare search Io ci sono Eh sto facendo search Allora aspetta che faccio search Di nuovo Che devo cercare Che di 3 Ah c'è un lost hermano C'è un lost hermano 3 Qual è il tuo? Il 3 Il 3 Buonasera super mario Buonasera Ciao super mario La gang Ragazzi ma siamo Ma sono l'unico Ah non vado a dormire Stavo salutando Ah no siamo io e Leo Va bene Ok Allora Oh cazzo veramente Io sono il sur Leo Ragazzi io vado di nuovo I engineer Ragazzi ho il rocket launcher Non posso fare nient'altro Veramente Però Allora io metto Io metto l'insider Perché l'insider è una bestia Mamma mia Ti piace l'insider? L'insider è bestiale Parti da dentro Puoi usare il drill Una bestiale proprio Ti è concesso Una bestemmia per partita In chat mi dicono Chi ha fatto il mega ruttone È stato sedia? No no Non ho fatto tutti È probabile sia stato io Ma non mi ricordo Oh mio dio Sì vabbè questa Che cos'è? Io sono già dentro Godo Oddio ragazzi Ma è una banking In Calabria Lo è? Beh però La Calabria è bella Allora se sono tutte così Ho detto che è brutta Ho detto soltanto Che è una banking No però io non ci sono mai stato Quindi te lo chiedevo Lo dico perché sono stato eh No più che Calabria Queste a me sembra tipo Le isole oli o quelle cose L'isola d'erba L'isola d'erba L'isola d'erba Ragazzi ho chiamato Chi è che spara? Ah Io Così proprio Allora il drill sta Sotto Sotto Cosa? Si scende ancora La map è molto grande raga Oddio un gioco Sto cittando ragazzi Un gioco arcade Allora Ragazzi ho dei soldi Ascoltatemi un secondo E me vieni di qua Gira gira Di qua di qua di qua Dell'altro lato vieni Va bene No ragazzi mi sto droppato giù Oh il Calabrese di prima Mi può ascoltare un secondo? Ce la fai Dimmi Tipo ho trovato una cassa del tesoro dei pirati in spiaggia Ho raggabbato 9000 dollari così Tu puoi piccare il gold dal tesoro dei pirati e poi portarlo in coso e vinci Hai volto vai 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 Ma che cazzo Dov'è a questo punto cazzo Un pattuglio in interna spiaggia Sono altri tesori Io vado tranquillo Abbiamo 15.000 Quindi Ragazzi perché sono dei centurioni qui? Non lo so Siamo tipo il Caesar Palace di Las Vegas Sì ma sta mappa è folle Sta mappa è enorme più che altro Scusa che resti sparpo Io sono dentro a un elicottero ragazzi Non so neanche perché sono qui ma Io ragazzi Adesso hacker ho tutti i controlli cazzo Ma non posso farlo che palla Non posso uscire cazzo Ragazzi perché c'è un centurione qui? Tu non ti pensi È la tua antica Roma Vai mi apri questa porta No è morto Ragazzi Ragazzi Leo Mi ha tipo accortellato Stazione Termini Non lo so Stazione Ragazzi È arrivato tipo alla fine di tutto Vedi vedi Eccolo Come si scende giù raga Mi hanno Ragazzi io non lo ho E sono finito Sto esplorando la mappa ragazzi Che stai facendo Non lo so Sto conquistando la mappa Eccoci Bene Ho fatto il fuoco E adesso Che sta facendo C'è una brucia Non posso neanche ricaricarlo Berro Sei tutti noi Sei tutti noi Vuoi farcela Allora Ho appena deciso che l'ultima partita Se Berro ce la fa Deve farcela Dai Berro Innanzitutto Hai due minuti Devi farcela Due minuti Adesso devo appena tornare indietro Cazzo Allora Magari questa qua è una Ma mi sentono se corro in questa maniera Sì In generale sì È una scorciatroia Secondo voi questa Secondo me sì Probabilmente sì Vedi se trovi della flora e della fauna locale Mancano due minuti Berro Vai 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 Corri Berro Allora ragazzi Vi voglio cazzuti Urra per Berro Fronzo in chat Urra 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 Allora Berro Berro Vai a sinistra Vai a sinistra Vai a prendere la bomba Vai a prendere la bomba La vedi sta Numero 5 metri Grazie della donazione Non è pal Entri dentro La piazza Non è pal Non ci sono i pokémons Vai la macchina Semplice No Lo devi fare Sì Vai Allora Io vado di qua Berro Io prendo la bomba E la gente dirà Oh guarda Se un berro con la bomba Mi fredderà Portissimo Berro fronzo Esatto Tu devi fare il giro E montare che non ti vedano C'è Leo che è un centurione Sembra tutto quanto molto corretto E là sopra E là sopra Sta guardando Merda Là sotto il mio centurione Ti dico io quando prendere la bomba Ok trovata Questa qua è una banana Ok No no Fermo 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 Berro Nasconditi Nasconditi sotto il masso Bravo qua Ti ha visto Ti ha visto Ok vai tutta a destra Vedo te a destra Vedo te a destra Vedo te a destra Vedo te a destra Corri Corri dritto 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 Ok Bravissimo Io sto seguendo le tue istruzioni pedissequamente Vai dritto Vai dritto Sotto la cascata Così Dentro la cascata Così Dentro la cascata Cosa state dicendo ragazzi Sotto la cascata C'è un'entrata C'è un'entrata Era fuori dalla mappa a farci una passeggiata Sì io tipo ero veramente ad esplorare le tue Isole Che dite raga basta Basta Io sono felice Ragazzi